Anche fra tanti anni, quando si parlerà di Buffono o di Chiellini, penserà alla Juventus, sempre e comunque, perché credo che comunque le nostre figure, pur avendo vestito altre maglie, siano identificati con la maglia della Juve, la storia della Juve e tutto quello che la Juve vuol dire in Italia e nel mondo. E questa è una cosa che sicuramente ti fa pensare e ti rende orgoglioso. Un rammarico che ho è sicuramente il fatto di non aver giocato la finale di maggio in casa, perché comunque aver la possibilità di giocare a una finale europea nel nostro stadio, in un percorso che poteva essere davvero segnato dal destino, è un rammarico che sicuramente mi porterò dietro. Poi fa parte del gioco, però dispiace perché eravamo convinti di poter arrivare a vivere sicuramente un grande traguardo tutti insieme nel nostro stadio. Sicuramente, come ha detto prima il Presidente, quello di oggi deve essere comunque non un riconoscimento, ma una voglia tutti insieme di raggiungere ancora risultati importanti e di poter sognare insieme, però sempre avendo dalla parte nostra il lavoro quotidiano e il sacrificio che deve essere la base per raggiungerli.